quali sono i tuoi zombie? i miei zombie? si politici non tutti ovviamente sono la mia croce delizia tanti non pensano e decidono tanti pensano e decidono invece per il meglio quindi sono il target che più mi interessa da dezombificare e che dovremmo ancora più secondo me coinvolgere all'interno dei licogito quindi spero di vederne anche se a non tutti piacciono grazie